Un eroe della disco italiana che si sta facendo largo dappertutto, settimanalmente viene pubblicata un'intera pagina su uno dei più autorevoli settimanali americani che è Billboard, un'intera pagina sul disco italiana e uno degli eroi di quest'estate è senz'altro Make a Mission, un pezzo stupendo che si chiama How Old Are You? Allora un applauso per Make a Mission Grazie a tutti 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 Make a Mission che tra l'altro Grazie a tutti